Se la sono vista veramente brutta, la scorsa notte due coniugi fanesi che dopo una serata passata fuori al loro rientro in casa si sono trovati faccia a faccia con due banditi che poco prima avevano fatto razzia nel loro appartamento. Momenti concitati dove i ladri, vistasi la via di fuga sbarrata, sono passati alle vie di fatto e dopo aver sferrato un pugno alla donna e caricato il bottino nell'auto di grossa cilindrata, anch'essa rubata, hanno tentato, senza tanti complimenti, di investire il marito per darsi alla fuga. Oggetti d'oro per alcune migliaia di euro e un armadietto blindato con tre fucili da caccia e due pistole, armi regolarmente detenute, ciò che i due si sono portati via nella loro fuga. Fuga di breve durata perché di lì a poco sono stati intercettati da uno volante della polizia. Durante l'inseguimento i ladri si sono sbarazzati dell'armadio blindato, ancora chiuso, e poco dopo, vistisi ormai scoperti, hanno abbandonato anche l'auto e si sono dileguati a piedi, facendo perdere le loro tracce, nonostante altre due volanti si siano messe sulle loro tracce. Recuperato l'armadio blindato con all'interno le armi e l'auto rubata.